e a un certo punto gli proposero questa antologia di poeti palestinesi e lui entrò in relazione con questo curatore dell'antologia che era a sua volta un poeta e in una di queste lettere abbiamo la posizione di Calvino sulla questione israelo-palestinese. Io personalmente vedo la soluzione, scusatemi, dice precisamente, vedo la sola soluzione del problema palestinese nella via rivoluzionaria, tanto nel mondo arabo quanto nelle masse israeliane. Rivoluzione degli israeliani poveri e in larga maggioranza d'origine medio orientale e nord africana contro i loro governanti coloniali, ma anche rivoluzione delle masse popolari dei paesi arabi contro le oligarchie reazionarie e militariste, anche se si dicono più o meno socialiste, che sfruttano il problema palestinese per demagogia nazionalista. La vera resistenza non è soltanto lotta contro un invasore esterno, deve essere lotta per un rinnovamento profondo della società nel proprio paese. Grazie. Grazie.